buongiorno al popolo di youtube oggi domenica giorno oggi domenica 22 maggio ci sono tre sette e zero sette vi ricordo che sul io notte abbiamo una sola previsione in quanto l'altro è sortito e abbiamo un solo ambo uno solo con il numero 90 ok questo 90 e fortissimo qui c'è 78 87 che era su cagli cagliari genova è venuto su firenze ma vi ripeto abbiamo la previsione della triade il metodo della triade la previsione è perfetta qui proprio non vi ha nulla da dire già lo sapete qui andremo a colpire qui quando si forma la triade così perfetta noi abbiamo tre condizioni la triade la triade d'oro il top super è il metodo cifra della triade inversa voi che avete questo sapete non c'è bisogno che io vi dico che vi spiego non c'è condizione migliore ok non la volevo nemmeno far vedere le condizioni ma che già sapete non è un problema e lì vedremo cadere il 9 e il 90 singolarmente e anche in ambosic vabbè da leone è tutto ciao e buona domenica